12 posti letto, una medicheria, una sala riunioni e una di attesa, oltre a dare riservate alle famiglie che vogliono stare vicino ai loro cari nelle fasi terminali di vita dei pazienti. È stato inaugurato a Minervino Murge presso il secondo piano del PTA alla presenza del governatore Emiliano l'Hospice Carol Uetila, una delle poche strutture presenti in tutta la regione, nata con l'obiettivo di offrire cure palliative e supporto ai malati che si ritrovano nelle fasi più critiche avanzate delle gravi patologie. Arei riqualificate e ristrutturate, ambienti confortevoli e attrezzature all'avanguardia. Ad esprimere soddisfazione per la nascita della nuova struttura è stato il direttore generale dell'azienda sanitaria locale della sesta provincia pugliese Alessandro Delle Donne. È una struttura che è dedicata alla presa in carico di pazienti con uno stato di malattia molto avanzata, quindi una struttura dove si faranno cure palliative. È una struttura che ha pensato a tutto, non soltanto alla cura di questi pazienti molto difficoltosi che si trovano in uno stato di malattia avanzata, ma ha pensato anche alla famiglia che accompagnerà in questo percorso difficile i propri parenti, quindi siamo stati molto attenti alla descrizione anche di un ambiente che sia capace di dare pace e serenità a un momento molto intimo, molto delicato. Pertanto lo abbiamo voluto intitolare a Carol Voitiva, pensando all'uomo, non soltanto al Papa, che fino all'ultimo dei propri giorni di ministero religioso ha voluto testimoniare che nonostante il dolore si può trovare una pace interiore, una pace, una serenità che noi tutti andiamo cercando in un momento in cui davvero la vita ci pone di fronte a scommesse che fanno parte del mistero stesso della vita. È uno dei pochi hospice presenti in tutta la regione e pertanto sappiamo anche peraltro che la lista d'attesa dei pazienti è già abbastanza lunga, pertanto l'offerta che noi stiamo oggi aprendo al pubblico è un'offerta che sarà sicuramente ben accettata da questa categoria di pazienti. La struttura è stata allestita in preziosità anche con alcuni scatti fotografici selezionati nell'ambito del concorso Uno Scatto di Vita. Abbiamo voluto coinvolgere novità anche particolare nella costruzione di questo reparto con un concorso pubblico fotografico perché vogliamo che questa sia una struttura che appartenga davvero a tutti e che sia sentita da tutti come una struttura di proprietà pubblica e quindi abbiamo voluto fare attraverso questo concorso, abbiamo voluto far partecipare all'arredamento di questo reparto affinché il tratto dell'umanità e di umanizzazione delle nostre cure sia sempre al centro delle nostre attenzioni. Non abbiamo davvero voluto tralasciare nessun particolare.